Arrivati i vaccini ai medici di famiglia, numerose dosi nell'ultimo periodo, dottor Cerolini Forlini, qual è al momento la situazione? Sì, proprio venerdì mattina siamo venuti qui a ritirare un consistente, questa volta con tentativo di vaccini, dopo il primo lotto che ci era stato consegnato all'inizio di ottobre e che avevamo indirizzato in modo particolare per i pazienti più fragili e più anziani. Adesso l'Asda ci ha promesso un ulteriore approvvigionamento entro la fine dell'anno, quindi riusciremo a questo punto a soddisfare le richieste dei nostri pazienti. Dottor Crisante, entro quanto è indispensabile vaccinarsi in quest'inverno così particolare? Non c'è una data precisa, l'importante è che prima che arrivi il maltempo, per fortuna quest'anno la temperatura e il tempo ci sono andati a favore e sicuramente abbiamo ancora tutto il tempo, almeno 10-15 giorni ce l'abbiamo di tempo per vaccinare, tendo conto anche che l'inverno comincia il 21 dicembre e quindi siamo in perfetta regola. Dobbiamo dire ancora che l'aspettativa della popolazione era di anticiparlo un po', però tutto sommato da come sono andate adesso le cose, con il buon tempo, è andata bene la consegna in questo periodo, in questo momento. Dottor Cerolini, è un periodo particolare, ormai tra poco ci sarà un anno dall'inizio della pandemia, voi medici di medicina generale continuate a portare avanti un grosso lavoro anche in condizioni non semplici? Questo è vero, speriamo che il governo chiarisca anche che come medici convenzionati rientriamo tra gli operatori sanitari che dovranno essere preliminarmente vaccinati anche contro il COID. Ricordiamo che per avere dispositivi di protezione individuale abbiamo dovuto aspettare non settimane ma addirittura mesi.